Invece sempre parlando di un po' di debito, però in questo caso andiamo a parlare di Europa, perché l'Europa per la bocca di von der Leiden, se non ricordo mai l'ha detto lei, comincerà a novembre la sperimentazione dell'euro digitale, per cui potremmo ritrovarci ad avere un wallet di euro invece che di bitcoin o di altro. Allora, spieghiamola bene, perché in realtà la questione euro digitale non è una questione che è nata ieri, è una questione che nasce da diversi anni, si parla di euro digitale, diversi mesi fa è stato avviato il processo, allo stato attuale delle cose la grande notizia è stata che il consiglio direttivo ha deciso di passare alla sua fase successiva del progetto dell'euro digitale. Quindi adesso c'è una preparazione che durerà un paio d'anni, dopodiché a seguito di questo paio d'anni si valuterà se effettivamente adottare anche l'euro digitale. Come funziona? A differenza di quello che abbiamo allo stato attuale delle cose, ossia i contanti e le carte, le quali sono gestite dalle singole banche nazionali, regionali, dove io ho la mia carta, pago, quello ha una tracciabilità, il progetto, l'idea è quello di digitalizzare l'euro contante tutelando la privacy che ha l'euro contante. Quindi avremmo, allo stato attuale delle cose, quello che è il piano è quello di dare una sorta di vero e proprio wallet all'interno del quale ci sono degli euro, quanti euro, quali euro, se ne parliamo fra poco, e avere la possibilità di utilizzare quegli euro attraverso la carta e darli per il pagamento col POS, a darle a un altro esercente, pagare in e-commerce, anche ad enti governativi, ma senza la tracciabilità della carta di credito, del Bancomat, nel normali, perché in questo caso si toglie il controllo e la tutela che ci danno gli istituti bancari e questo può essere sia un pro che un contro, perché il grande tema della tracciabilità è un tema, se io sono davanti a te e ti do mille euro digitali e li scambio dal mio wallet al tuo wallet, ma non c'è la tracciabilità, come per il contante, della transazione, è lì bisogna un attimino vedere che cosa succederà, perché il grande tema della digitalizzazione è quello di contrastare la non tracciabilità del contante, per l'evasione in nero, per anche semplicemente lo scippo, tutta una serie di cose che ben conosciamo per quanto riguarda il contante, il tema della privacy in questo caso potrebbe essere, diciamo, il tallone d'Achille va alla risoluzione a seconda di come l'andate a vedere voi, per quanto riguarda gli euro digitale, per quanto riguarda i limiti, e qui chiudo e ti lascio la parola, il limite non è stato ancora definito, per quanto riguarda questi wallet, si parla di 3.000 euro complessivi che possiamo avere in questi wallet, ma non è ancora definito, 3.000, 4.000 euro, ma se ne parla, molto vedremo in questi due anni per vedere se effettivamente quello che sto dicendo adesso continuerà a configurarsi come realtà, oppure ci sarà una qualche modifica, una qualche modifica che molto probabilmente avverrà, perché mi rendo perfettamente conto di come utilizzare un euro digitale, il quale non è tracciabile, allo stato attuale delle cose, ha delle criticità non indifferenti. Cosa ne pensi per quale? Ma io penso che invece, seguivo l'altro giorno l'avvocato Angelo Greco, che ha un carico YouTube, non so se lo conosci, parlava proprio di questo argomento, come del fatto se, come pensionavi tu, l'euro digitale possa essere invece un pericolo per la privacy, perché ovviamente se con le carte ci tracciano, in maniera diciamo digitale, i nostri wallet dovranno per forza essere collegati a un nome o un cognome o un codice fiscale per essere ovviamente gestiti dalla Banca Centrale Europea, perché l'euro digitale teoricamente verrà gestita dalla Banca Centrale Europea, e per cui in quel caso tutta la manfrina della privacy potrebbe invece essere solo fumo negli occhi per dire ti controllo ma in altro modo. Altro problema, quello di cui si parlava è, a meno da quanto scrive la BCE sul suo sito, non ci saranno costi per l'utilizzo di questo euro digitale, ma si parlava anche del fatto se gli vari esercenti potrebbero avere costi, perché se adesso già fanno problemi con l'utilizzo delle carte, col pagamento, col telefonino che si poggia sulla macchinetta, magari l'euro digitale se a costi anche questo, pur se bassi, potrebbe essere diciamo così fatto con un utilizzo indisciplinato da parte dei commercianti, mentre se fosse a costi zero effettivamente potrebbe elevare quello che è la presenza del contante dalle nostre tasche. Va anche detto che la presenza del contante è un po' un aiuto per molte persone a evitare di sovraspendere, di andare a spendere in maniera eccessiva quello che si ha sul conto corrente o in saccoccia. Allora, è un tema importante, dunque lo scopo dell'euro digitale, almeno quello primordiale, quello primo dai resoconti della BC, è proprio quello di andare ad abbattere le commissioni per quanto riguarda gli esercenti, perché andiamo ad eliminare l'intermediario. Allo stato attuale delle cose, il fatto che io utilizzo un POS è un servizio terzo, lo scambio di denaro avviene attraverso due piattaforme terze alle quali si prendono una commissione, eliminando le piattaforme terze teoricamente dovrebbe essere eliminata, se non del tutto in grandissima parte, la commissione che deve andare a pagare l'esercente. Ora, che poi questo succederà, è tutto un altro paio di maniche. Diciamo che poi c'è anche un altro problema, ossia che la possibilità, diciamo, di furti, in questo caso, può essere sicuramente una tematica da mettere sul tavolo. Sì, perché se non c'è una tracciabilità, se non c'è una tracciabilità, non manca una carta fisica, sì. Tu dai per scontato, passi per strada, qualcuno ti prende col POS, ti prende il denaro dalla carta, ma non c'è una tracciabilità di quella transazione, per cui diventa complesso da quel punto di vista. Però, il progetto è in cantiere. Ora, si può dire tutto all'Europa, a salvo che non abbia mai, non presti grandissima attenzione alla tutela individuale, soprattutto della privacy, del tema della privacy, sulla quale l'Europa, da questo punto di vista, ha degli standard molto più alti degli americani. Quindi, per cui, vediamo un attimino come ci si andrà a muovere. Adesso stiamo parlando di un progetto importante, a mio parere estremamente importante, che deve essere monitorato. Vediamo come ci si fa a sviluppare. Però è sicuramente interessantissimo per tutti quanti noi. Sì, alla fine ci si ha il proprio wallet, un po' come adesso si fa con Bancomat Pay, però che prendeva i soldi direttamente dal conto corrente, lì invece sposteressi la tua sommina un po' alla Revolut, se si può dire. Diciamo un po' la Satisfay, un concetto un po' semplifico. Sì, la Satisfay, dove tu metti sull'applicazione e si scambiano tra le applicazioni. Poi, anche lì, bisogna vedere un attimino i wallet, come funziona, gli eserciati si avranno dei limiti maggiori per il loro wallet, insomma, quello è tutto quanto in cantiere. Ma il concetto è molto la Satisfay, per capirci. Perfetto. Quindi andiamo a vedere un po' come questi due anni andranno a evolversi e se effettivamente d'ora in poi non avremo più i 20 centesimi o il centesimo che è già sparito da un po' in tasca, ma avremo solo il nostro wallet digitale. Grazie a tutti.